Buongiorno, sono Fabio Massimo Bonini. La prima cosa da fare per dare una mano ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea contro il coronavirus è stare a casa il più possibile. Poi si può andare su Instagram a vedere i ritratti in vendita sulla pagina lore1981doc. C'è anche il mio ritratto. Tutto ricavato va a favore delle raccolte fondi del sito Nurse Times dell'Istituto Spallanzani e della Croce Rossa italiana. I dettagli sono presenti sotto ogni disegno. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza.